buongiorno a tutti sono la professoressa bruna ciabarri del cd di milano abbiamo una nuova comunicazione da farvi e un invito da rivolgervi innanzitutto avrete sicuramente saputo che il decreto sostegni bis ha modificato la prova l'assetto delle prove concorsuali nel concorso ordinario 2021 e ha indicato come assetto delle prove un'unica prova scritta è proprio per questo che noi del cd di milano che ormai abbiamo un'esperienza quarantennale nella formazione dei docenti ci preoccupiamo immediatamente di fornirvi gli strumenti adeguati per poter superare con successo questa prova abbiamo quindi pensato di invitarvi a un webinar gratuito sulla prova scritta del concorso ordinario che avverrà il 24 settembre 2021 alle ore 15 e 30 vi aspettiamo numerosi perché attraverso questo incontro sarà possibile stendere le linee generali di quello che sarà la preparazione seria e approfondita di tutti quegli aspetti che saranno compresi nella prova scritta che appunto verrà somministrata pare a data breve pertanto vi invitiamo a prendere contatto su www.cdmi.it oppure a telefonare al numero che leggete qui sotto 02 2953 6488 o 6490 vi aspettiamo numerosi e siamo convinti che la nostra preparazione sarà sicuramente la più seria e la più adeguata per voi a presto grazie a tutti